Assessore Maurizio Saia, la zona di Via Nelli dopo lo sgombero è diventata una zona di stanziamento per Accattoni. Come si sta muovendo il comune di Padova su questo? Beh, Via Nelli intesa come complesso serenissima, è ben chiusa e quindi non ci sono presenze. È stato un controllo anche recente, gli appartamenti o sono lucchettati o sono addirittura murati, quindi non c'è presente. Tentativi da quello che ci risulta negli anni scorsi ci sono stati di entrare ma non c'è una presenza interna. Purtroppo tra l'altro tutte le cantine sono allagate quindi non ci sono neanche luoghi particolari dove potessi nascondere. Quello che invece è importante è che noi abbiamo un monumento al degrado, un monumento che è chiuso ormai da tantissimi anni, che è frutto di un'inerzia della precedente amministrazione che si è appropriata di un progetto di sgombero di quel complesso già avviato dalla giunta destro e dalla regione del Veneto, soprattutto con i soldi della regione del Veneto. Dopodiché fatta uscire le famiglie senza distinguere tra illegali e legali, sono stati tutti sistemati nelle case pubbliche del territorio padovano e chiaramente anche gli illegali abbiamo visto con che effetti ovviamente negativi sulla sicurezza della città. Il sindaco ha ripreso una serie di incontri con ipotesi tra progettisti e diciamo gente che comunque ha idee sull'argomento oltre che ovviamente la parte dei proprietari che saranno incontrati anche prossimamente proprietari privati, perché lì il comune ha circa il 30-35% del complesso e di proprietà del comune. Poi c'è una rimanenza anche dell'Ater e tra comune e Ater regionale si arriva intorno a poco più del 40%. Gli altri sono appartamenti privati o singoli proprietà o gruppi di proprietari che hanno più appartamenti. Quindi si deve riprendere un colloquio con loro, quindi avere le idee da mettere in campo e poi trovare l'accordo con i privati. Questo è il quadro. Quindi come riqualificare la zona? La zona va riqualificata con una soluzione che o è una parte dell'abbattimento o è una ristrutturazione, ovviamente non in mini loculi come si usava a fare negli anni 60-70 perché non sono più appetibili dall'utenza. Una volta si facevano mini appartamenti per gli studenti e oggi non funziona più così. Ma comunque una soluzione va fatta e certo che non può rimanere questo monumento al degrado. Ogni luogo della città in cui ci siano luoghi privati o pubblici chiusi e soprattutto chiusi da anni, aumentano il degrado e l'insicurezza della città, ma non l'insicurezza percepita. Sono realmente luoghi che creano ulteriore degrado e insicurezza e quindi vanno assolutamente eliminati. Non so se sia maggiore il danno di un condominio chiuso così in stato di degrado perché è un enorme condominio, sono sei palazzine, un'area molto importante, o quando comunque c'erano presenze interne sicuramente controllate ma non sempre gestibili ma almeno concentrate in quella zona. Bisogna evitare di fare gli errori che sono stati fatti nel passato. La città non li sopporterebbe più, ha già sopportato abbastanza e anzi vuole che la situazione migliori. Anche Biannelli deve vedere un futuro diverso.